Oggi è diretta velocissima, c'è un caos incredibile con quello che dopo la vacanza flash della Meloni da Zeleschi la signora Zeleschi è andata da suo amico ad abbracciarlo e a sostenerlo e scopre un caos incredibile nella maggioranza la Meloni zittisce Berlusconi, allo stesso tempo Mosca difende Berlusconi, gli hacker russi si vendicano contro l'Italia e iniziano ad attaccare i siti italiani insomma, duemila casini, maggioranza divisa, tanto che le forze Italia e Lega hanno detto no, non manderemo i jet il Papa ribatte guerra assurda, insomma è un casino incredibile e la cosa più incasinata qual è? Ciao Antonio, ciao Maria, buongiorno la cosa più chiara qual è? Che il popolo italiano, io presumo, è lecito che abbia una mia idea il 70-80% a mio parere in questo momento è d'accordo con Silvio Berlusconi e contro quello che dice la Meloni riguardo il conflitto e inviare armi non mi riferisco in generale nell'idea della Meloni premetto, io in questo caso sto discutendo su una cosa fatta dal premier Joseph Meloni specifica, parlo del paccato e non del peccatore in generale la Meloni ha delle idee alcune molto vicine alle mie in questo caso proprio distantissime dalle mie e non solo dalle mie andiamo però a vedere i giornali direttamente, basta questa premessa ciao da Palermo, abbiamo Anna Brighina da Palermo, che bella, com'è il tempo Palermo? qua fa schifo oggi, qua fa schifo, ciao Dimitri Todescu, ciao andiamo a vedere, che dicono? partiamo dalle, ne apriamo una alla volta, partiamo da Libero libero dice, ora vogliono pure uccidere il ministro squadrismo rosso, parliamo di altro argomento dei fatti che stanno succedendo in Italia questi da Valditara e quant'altro queste minacce di morte al ministro dopo la rissa al liceo di Firenze e il PD va in piazza con chi grida Meloni se è la prima della lista quindi attenzione perché il Partito Democratico se ne approfitta della situazione si mette in mezzo e cerca di creare caos e minacce attenzione perché questa è una cosa grave a mio parere è molto grave abbiamo al centro Luxuria e l'omofobia la russa ha salvato una mia amica trans devo capire questo qua, non l'ho letto quindi le parole del politico di Fratelli d'Italia il buonsenso scandalizza ha salvato una mia amica trans andrò a leggere questo articolo di Pietro Di Leop può essere molto interessante non capisco se sia ironico o se dica veramente che Luxuria infatti difende di fatto difenda il ministro la russa messaggio di Putin siti web del governo colpiti di Akers dopo il viaggio del premier la prima risposta della Russia è un attacco degli hacker russi secondo queste indiscrezioni appureremo dovrò fare qualche domanda a qualche grande architetto che mi dica qualcosa in merito a questo perché dubito che sia un attacco chi è che dice che sono attacchi Akers russi chi è che può provarlo io ho chi può provarmelo e chiederò oggi chiederò e farò le domande del caso cambiamo andiamo a vedere che dice Repubblica Repubblica è pesantissima stamattina guardate l'attacco di Repubblica un anno di guerra in Europa queste scene qua e... vabbè lasciamo... Mosca difende Berusconi guardate questo titolo qua guardate Mosca difende Berusconi la porta voce la ha scritto quelle frasi di Zelensky attenzione è ovvio è ovvio che Mosca difenda Berusconi e... Crowell dice il leader di Forza Italia ricorda pratica di mare noi pensiamo Monaco 38 vabbè stanno parlando di roba ragazzi di cent'anni fa stanno parlando di roba di cent'anni fa veramente sono una cosa vomitevole fanno vomitare vomitare vabbè chiamiamo argomento andiamo a vedere cosa dice Corriere della Sera parla dell'attacco Akers all'Italia altro attacco Akers vorrei capire chi è che ha dato queste informazioni e da dove hanno preso dove hanno avuto la certezza che sia realmente un attacco Akers dalla Russia sono veramente curioso di vederlo farò delle domande del caso come ho detto prima andiamo a vedere Banfi ci dispiace condoglianze a Lino Banfi perché per l'addio alla sua moglie e Lucia un amore lungo 70 anni pensati quindi condoglianze a Lino Banfi per la moglie mi dispiace andiamo cambiamo cambiamo velocissimamente sto andando veloce come un treno il mattino che dice prima pagina il mattino dice autonomia stop doveroso il sindaco di Napoli Manfredi dopo l'altolà del lanci al testo ora a dialogo per ridurre il divario a fondo di De Luca De Luca che è diventato farò un video a settimana con De Luca perché la gente si è divertita e De Luca per me è un personaggio incredibile e più simpatico di Crozza quindi andiamo a vedere qua un anno di guerra l'Ucraina assemeloni italiani Putin revoca la sovranità della Moldavia attacco Acres all'Italia l'ombra dei servizi l'ombra dei servizi russi ma per favore ma per favore se vogliono fare un attacco ci smontano tutto vabbè andiamo alla stampa la stampa dice lega e forza Italia niente jet all'Ucraina questa è la risposta Giorgia Meloni il ministro degli esteri cinese presenta un piano di pace allo zar Biden un errore sospendere il New Star il cremino difende Berlusconi attacco anche ai siti del governo Italia russofo va Putin minaccia la Moldavia vorrei dire a signor Putin che non è così l'Italia è sopra le parti non è né russofona né Zelenskoffina semplicemente contro la guerra anzi se posso essere onesto il 70% degli italiani a mio parere se non di più e confermatelo nei messaggi è contro la guerra contro l'invio di armi quindi paradossalmente contro Zelensky come contro Putin cioè state facendo una guerra tra voi due smettetela avete rotto le scatole state creando danno a tutti e la gente che muore quindi io non sono per la guerra noi non siamo per la guerra nel fango delle trincee questi reportage strappalacrime devono fare questi reportage strappalacrime per creare per creare delle torniamo ai messaggi eccoci qua andiamo a vedere qua il manifesto che dice vedo un'immagine del manifesto molto interessante perdonatemi torno sulle eccoci qua il manifesto roulette russa e sotto abbiamo Shkane non farò la vice di Bonaccini la candidata alle premare basta patriarcato il governatore cerchi voti nelle grandi città vabbè c'è questa sfida tra la Shkane e Stefano Bonaccini vedremo chi la spunterà e andiamo andiamo chiuderei con l'ultimo chiuderei con l'ultimo che è la verità dopodiché vi saluto perché oggi sono di frettissima la verità che dice Amato e Mattarella stringono il governo nella tenaglia green ecco la vera la vera opposizione l'ex premier della detta la linea la politica deve tingersi di verde il capo di stato rincara gli obiettivi 2030 dell'ONU non sono negoziabili sono attenzione qua si sta parlando dei vari obiettivi green che devasteranno la nostra vita normale sia per la casa che per gli automobili cioè amici un green a mio parere un falso green un falso green c'è solo una questione di moneta un falso green ma ve lo spiego ve lo spiego in pochi termini c'è tipo la differenziata da noi fanno la differenziata poi ah noi modenesi sto parlando in questi giorni abbiamo un grosso dubbio che faccia la differenziata poi venga tutto rimesso dentro l'inceneritore tutto insieme e i dubbi sono questi è per quello che dico oppure per andare a prendere i sacchetti fai dei chilometri chilometri in macchina io ho dei grossi dubbi ho dei grossi dubbi vai a vedere sondaggio affari italiani più del 90% a favore di spazziva così Daniela Matteucci mi ha mandato una cosa affari italiani avrebbe pubblicato un sondaggio fatemi capire questo sondaggio se qualcuno di voi relativamente a cosa perché ha un fattore di spazziva non so cosa sia spazziva sinceramente ha scritto male affari italiani più del 90% a favore di vabbè cercheremo l'ex premier ha detto la linea al centro pagina la Cina blinda Putin ma parla a Zelensky il tempo e gli alleati frenano altre armi verso Kiev Putin fomenta battaglia eroica amici vabbè in sostanza la guerra continua dopo che la melone è finita a fare la tra virgolette in modo ironico la la cameriera la cameriera dolce cameriera di Zelensky è successo un casino incredibile il nostro premier bravo in alcune cose pessimo in altre molto semplice quindi tutti uguali tutti mi dispiace dirlo mi dispiace dirlo ma sulla cosa della guerra la premier Meloni sta perdendo tanti di quei consensi che purtroppo noi ce ne siamo resi conto ma lei non se ne è resi conto a mio parere lei non se ne è resi conto poi non se ne è resi conto ma è obbligato a farlo questo è il dubbio non dico che sia lei che sbagli lei dico che qualcuno la sta facendo sbagliare volontariamente detto questo vi saluto buona giornata a tutti commentate voglio vedere i vostri pareri andate a prendere i giornali se vi va se no limitatevi a leggere online come faccio io difficilmente li compro ogni tanto li leggo in bar ciao a tutti ciao a tutti